ragazzi che allora non so cosa sia successo che cazzo ovviamente sono successi problemi come al solito perdonatemi perdonatemi ho parlato da solo non so per quanto tempo mi si è rifresciato streamlabs OBS l'ho anche detto mi si è rifresciato streamlabs OBS perché ci sono stati dei movimenti non avevo notato che ero a 0 kilobyte in upload 2 non lo reggi no non credo sia quello grazie a Gaik non so ecco qua perfetto io sto vi giuro stavo parlando da solo l'ho fatto anche a me la settimana scorsa anche io parlavo da solo come uno scemo molto bene dai qua c'era la luce porco cane è vero già fatto la chiave rossa porco cazzo scusatemi dai già avevamo poca gente adesso non recupereremo mai più di qua questa è la rossa perfetto una porta rossa con un'altra porta rossa apro qui e ciao porco cane loro mi piacciono questi qui con il mitra perché gli si spaga tutto il cervello la testa bellissimo cazzo quanto godevo da piccolo divertivo un bordello ciao grazie anche all'uomo invisibile come vedete il mestiere si è un problema però no c'erano degli interruttori da interruttorare qua come cazzo si faceva aspetta allora di qua ok questo era no ah no è di là è di là ok è di là è di là si arriva non così si arriva di qua per andare di là si arriva di qua e l'interruttore è qua buona e io vado di qua e mi si è alzato questo e caffanculo ha finito cormanno 4 mesi grazie mille ah mi mancano un po' di segreti intanto qui ci sono anche dei testicoli e grazie mille anche a Davo per i suoi sette mesi ok ok dove sono porco cane è vero che qua c'erano le fosse che fan su e giù dove è andato beh anche di qua bene marca miseria ok no ero sicurissimo qui ah ma che palle che va al contrario le cose non è mea mia cazzo luci luci no non lo so ormai è andata chi è che cazzo luci non lo so non so più niente non mi ricordo niente e vabbè è il buio grazie al cazzo che cazzo vuoi che si ricordi uno del buio ah si arriva qualcuno invisibile si moonwalk sera non è questo vuoi sapere qualcosa si ah si venite qua non c'è nessuno dai non c'è no dai no dai no dai no dai devo prendere a puni qualcuno dai per piacere uno 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 vieni qui ok merda merda morite merda ma che dolore arrivo arrivo aspetta ho finito il potere come ho detto che duro ma non è anche una chiave guardate di quelle volte una chiave blu editor quella rossa quindi mi serve quella rossa giallopetra 21 mesi non si compiono mica tutti i giorni i password caster spaccano grazie mille un saluto anche a tutti i pastoni e niente di qua ok di qua non sono andato su buona che dolore che ricordava anche vagamente Hitler di Castle Wolfstein questo qui col mitra se non ho una memoria del tutto di merda return to Castle Wolfstein scusate che belli pezzi di persona appese questo qui prima hanno tolto il cervello poi hanno appeso il resto faceva ambient una gamba uno che ancora si muove bravissimo ma questo non c'ha più chi spara qua ho capito dovete rompermi le balle eh rompi i coglioni ci faccio la faccia io eh anche la chiave rosa non c'ho vita è un problema buona no le teste no le teste no cazzo che qui sono ancora ancora quasi accettabili in Doom 3 sono diventati una merda una merda in Doom 3 non è che Doom 3 è tutta una merda però le teste di Doom 3 porca miseria c'è una motosega lì? no è lanciarazzi ok ma ce l'abbiamo già anche la motosega ce l'abbiamo già in realtà stiamo finendo in merda buffera? no a me non dà segni di buffer Seth prova a rifricciare tu che dolore che mi ha fatto però quello lì non è possibile io ho visto uno sapevo che c'era uno andiamo via per l'amore del cielo chiave blu munizione munizione blu che pauras ok chiave gialla no 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 i miei preferiti che belli cacodemori che poi dopo diventano non vi viene voglia di leccarlo? ho sempre desiderato mangiarlo io una volta moro che be... bellissimi no? a me si ah che porco mi sono fatto prendere ah che bello un gelatone buonissimo guarda che c'è anche l'occhio lì sulla sinistra tutto però ragazzi se no avete gusto esco esco senza scoprire niente di nuovo esco perché stavo morendo sì c'è il peluche del cacodemore solo che costava un botto mi ricordavo cioè più che porco subito così vediamo che c'hanno una mira del cazzo va là quello no ci sono livelli che mi ricordo molto meglio di altri sono sincero di Doom 2 mi sa che mi ricordo meglio gli ultimi livelli soprattutto quello lì dove c'è quella super scalinata verso l'alto sono molto più corti di Doom 1 i livelli un po' delle stronzate ecco qua oh sì porco cane porco cane porco cane che divertimento questo livello eh però ci fosse anche un modo per fargli scendere no questo ai 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 e sì e sì e come dovrei fare come dovrei fare dai ah no ma c'è c'è il taso per uccidere ok li schiaccia giusto è vero è vero è vero ho premuto quello per far scendere ok infatti mi ricordo che c'era un Trix c'era un Trix qui uh 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 qui parte il Trix 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 che pare che spara dove cazzo li pare a lui eh sì però sono comunque nella cacca così una vita vediamo un po' se qui c'è della cura da qualche parte tipo no non c'è niente mmm imbazziamo così per non sfasare la mira dai no ostia dovevo andare di lì allora lì ci sono due cure però non mi ricordo dove si è andare qui no qui c'è un segreto ok che mi porta qua e vabbè è un gran chissene in cula come arrivavo lì su come arrivavo lì su ma voglio l'eschina tutti per te e sono andato dalla parte più sbagliata possibile mannaggia a me vabbè meglio così molto meglio così buona 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 tutti per te vabbè se sono 15 hamburger normale tanto voi adesso morite schiacciati non mi dovete solo che rompere le balle oh 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 dovina chi viene schiacciato vivo così imparate poi gli escono i buchi del sedere però è particolare perché prima sono morti normali e il gioco li tratta come morti normali e poi dice no ma sai che c'è visto che li abbiamo schiacciati li schiacciamo del tutto e dove è la carne trita scusami Gabriel ah ma era così che dovevo fare giustamente giustamente qua ci sono munizioni del coso buona sapete che non ho neanche mai giocato in italiano quindi sono batterie queste ci giocavo da piccolo in inglese naturalmente e io in inglese non lo sapevo quindi vediamo di qua cazzo c'era ancora uno lì vabbè uccidi i baroni con i fucili eh sì sono mago anche la prima volta che ho letto qualcosa in italiano di Doom è stato quando è uscito per Game Boy Advance che me lo sono comprato lì che dolore e lì allora ho imparato i nomi di tutti i vari personaggi perché c'è il libretto di istruzioni e allora mi sono letto tutti quanti i nomi mi ero aspetta non vorrei fare la cazzata cosa che fa sicuramente vabbè abbiamo recuperato la chiave blu è a posto doveva tornare indietro sì abbiamo recuperato tutti i nomi dei vari personaggi e la descrizione in italiano però da piccolo naturalmente io avevo che questi ma vaffangule ok avevo il gioco naturalmente in inglese non su floppy ma già su CD-ROM quindi ero già avanti di qua oh che palle quelli no 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 voglio andare giù come si torna giù ah ecco voglio premere la faccia di questo signore che mi fa sempre ridere ok fanno tutti ridere ma tanto anche doom 1 due floppy doom 2 cinque floppy sì no io ci ho giocato in versione CD non me lo ricordo merda me li ero scordati cazzo quanto sono duri sti figli della merda oh uno è andato eh questi qui sono proprio un'ortura di balle ti tienono i pugni durissimi e ti lanciano i razzi fortissimi vabbè ok cazzo ce n'era un terzo che trittico buono siamo messi quasi umanamente eh lo so che vanno giù con qualche colpo di doppietta molto vicino e l'andarci ma non stavo per cascare l'andarci molto vicino con la doppietta è il problema perché ti graffiano che non è proprio un graffiare ma che dolore avete visto l'ho ucciso comunque con la doppietta ciao poison attenzione c'è del veleno qui per terra sicuramente non ci cammini sopra grazie mille c'è del veleno un po' ovunque tra l'altro la merda no 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 Non sono messo molto bene Bravi in fila Finito i colpi Vabbè, cazzi vostri Mi avete fatto finire i colpi Morite prima Ok, allora, uno Munizie, munizie Cazzi e mazzi Buono Uscita Ciao Ciao Questo è il Doom che si controlla con il mouse O con il mouse Se è entrato profondamente nello spazio porto Infestato Citazione a caparezza, pensate Ma qualcosa non va I mostri hanno portato la loro realtà Con sé E la tecnologia dello spazio porto È sovvertita dalla loro presenza Più avanti vedi un avamposto dell'inferno Salve, qui è l'inferno Buonasera Una zona fortificata Se riesci a passarla potrei penetrare Nel cuore infestato della stazione spaziale E trovare l'interruttore Switch on off Di controllo che tiene la popolazione della Terra in ostaggio Oh, che belli Questi fanno un suono bellissimo che fa Mondi in blu Mondi in blu Mondi in blu Mondi in blu Cazzo quanto mi fa ridere Mondi in blu Magne la E quando si spaccano diventano delle costicine di pollo Da farti venire una fame Adesso ve ne ammazzo uno Che ve le vedete le costicine Guarda Guarda, dimmi se quello lì non è un pollo arrosto Da mangiare Questi sono demoni dell'inferno Che si sono presi la tecnologia umana E si sono potenziati Mi caccazzi eh Tutti grassi Circioni di merda Che belli Che c'è? I ragni Eh, questi sono duri Sono invisibili E loro sono molto stupidi Ok Cacchio Eh, questi fanno male Questi fanno male No 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 Questi fanno male Facciamo così Facciamo così Che stronzo Quanto siete duri Vabbè Dai Mi sono praticamente ucciso da solo Gli ho fatto il favore Gli ho fatto Che durezza però Eeeh Ok Ma ancora Qui c'erano anche i megaboss Super fighi Cazzutissimi Tutti grandi Che sono Praticamente la versione più grossa No dai Adesso me l'ha dato E vabbè Sono un coglione un po' anche io Buona Buona Ah ne manca uno ancora lì da tirar giù Sarà questo? No Sì Questo Level design Qui siamo veramente Facciamo un'arena? E hanno fatto un'arena Qui si Doveva premere Per chiudere Ecco Mi pare era due minuti Vabbè Ho suonato 46 secondi Eh no Non andare a mano Se ne deve il design Normalmente Ah qui Visto che abbiamo sorpassato Siamo finiti all'inferno Non servono più Le chiavi Però I teschi E qui per rendere tutto Un po' più Eh che cazzo Guarda qua che bello Sto coso che si muove Mi sapevo Cacodemoni Cacodemoni delle mie Gran balle Oh iniziano a cadere Finalmente Mezz'ora che gli sparo Ciascuno Ho sprecato Tutti i colpi Per loro Eh 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 Non l'ho mica visto Prego Beh Mi viene anche consigliato Delle munizioni Che trovo a terra Guarda Ma si I tre li posso gestire Scusate Ok Non c'ero E qua non sono andato Però Ok Buona Sono rimasti giusto due E che cazzo Però ragazzi Quanti 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 Ah no niente Era solo un simpatico sorriso Porca troias E qua invece Niente Leone Ok E ok No Che pare che c'è quello che sputa I teschietti di merda Lo odio Odio lui Odio i teschietti Che scoppia Ne butta fuori Otto Poi Più fastidiosi Porca vacca Sono questi Buona Andati Sai che segretone Che ti ho scoperto Cazzo Cazzo Veramente bravo Sera Fortuna che un po' Si è amato Cazzo Il teletrasporto Mica Sono coglioni Questi Giustamente Oh si O coglioni Lo so Mezzi stronzi Diciamo Buon coglioni Ti lo erano Dai Con l'invincibilità E' tutta un'altra cosa No che bello Ma c'è quello lì Non posso Ragazzi Eh dai Eh dai Cortesemente Lasciatemi fare Lasciatemi lavorare Quanti ce n'è Dai su Guarda che figo Quello grosso Che lo vorrei vedere A colori Il problema è che Per vederlo a colori Devo rinunciare All'invincibilità Quindi Non credo Lo farò E poi Rimangono solo Le scarpe Anche lì Pucciarle Un po' Nel caffè Non sarebbe male Che fa male No Ok Che bello Guarda che rimangono Solo gli zoccoli Fighissimo 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 Zio Qui Già dato Qui Già dato Qui No C'è la motosega Tua mamma Lurida Porca vacca Ah che male Va bene A posto Basta essere così negativo Ma va a cagare Ok Qui fatto Qui fatto 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 No Qua si Non mi serve Direi che me la son cavata No Guarda Visto le munizioni Che mi sta andando E cosa sto per prendere Quattro pinne All'orizzonte Vabbè Dice di Civiltà Permesso Ma guardate Ma sì Ma facciamo così E' qui che è Il BFG Dov'è che l'è Qua Non mi ricordo Mica Dov'è che era Il BFG Ragazzi Vulnerabilità Con la motosega Sono L'accoppiata Vincendo Non mi rispondete Però siete anche Un po' stronzi E' lì Grazie Che vuol dire E' lì Salve il pieno Di entrare Non mi ricordo Come funziona Il salvataggio Provo a salvare Ma Se Si Non mi ricordo Se salva esattamente qui Segna Mannaggia Ma che ho dimenticato Di fare la salva Per il mese E' resettato tutto Minore di tre Si è orgato Mi dispiace tanto Facciamo Su ogni parete Tutte Ma qui? Ma no Ma no ma ci sarebbe un minimo indizio Sulla mappa Quindi ricordatevi tutti Di risubare Di risubare La mano E' nella porta con le scale Dove c'erano i pinkhi Nella porta con le scale Dove c'erano i pinkhi Qua? Dove? C'è una sega qui eh Mi ha già Attacciato tutto Eh no Questi sono spenti proprio Versos 2 Vabbè oh Tanto si trova anche Più avanti Il numero segreto Amen dai Scusa Che è che non l'ho ucciso? Vabbè Quello probabilmente Che teneva il coso Che dite? Ci fermiamo Quello lì Deve essere diarrea Perché mi fa danno Non so Vabbè Mi faccio uccidere Scusami Tanto No ma in realtà Non mi conviene farmi uccidere Mi conviene salvare punto Sacche Sto guidaggine Tu qui in un angolo posso? Sei figurati Questo qui tra l'altro È un livello Di Di uno Zelda No scusami Era Zelda Non mi ricordo C'era un gioco Che aveva questi salisceni E delle balle Mi ricordo che era un platform Ah qui si scendeva Vabbè salviamo Sessi Gioco salvato Di Creeper A domani A domani A domani A domani Grazie a tutti